L'obiettivo dell'esercizio è ottenere una contrazione energica della muscolatura estensoria del tronco e stabilizzante della colonna. Il soggetto è seduto, afferra con le mani la parte posteriore dello sgabello su cui è appoggiato e effettua una trazione energica delle mani verso l'alto come se volesse sollevare lo sgabello stesso per ottenere una contrazione energica degli estensori del tronco.